Buongiorno a tutti e eccoci qui in compagnia di Gianni Mastrutto che abbiamo già conosciuto pochi mesi fa, ci ha raccontato la storia dell'armonica diatonica e avevamo già in quell'occasione annunciato che ci avrebbe poi raccontato in un secondo momento, ovvero questo momento, la storia dell'armonica cronica. Quindi vando alle ciance, Gianni Mastrutto ormai dovremmo conoscerlo tutti, dovreste conoscerlo tutti, faccia già nota su Armonica Mundi, faccia già nota notissima a tutti gli utenti di Dr. Art e agli armonicisti in generale. Gianni, a te la palla, anche se te la toglierò spesso, perché come sai, mi piace fare incursioni, rubarti, driblarti per farti delle domande. Fare scivolate, diciamo. Sua dintecca il scivolato sugli stinchi, vai. Ricapitoliamo un po' la storia dell'armonica. Nasce nel 1821, poi nel 1837 viene inventata l'accordatura Richter nella diatonica. Questa pone le basi per la prima armonica cromatica. Perché? Perché noi adesso conosciamo l'armonica cromatica come accordata in solo tuning. Però la prima armonica cromatica in realtà nasce dalla matrice dell'armonica diatonica. Quindi ha la stessa posizione delle note dell'armonica diatonica. Mi stai dicendo che la prima armonica cromatica è stata del modello tipo la Koch armonica che abbiamo visto l'altra volta? Esatto, esatto. Quella è stata la prima? Sì, sì, sì. La prima. Proprio la disposizione di note della prima armonica cromatica era praticamente due diatoniche messe insieme. Ma quindi la prima cromatica è stata Koch? No, Koch è una marca. Appunto. Che ha quel tipo di accordatura. Ma la prima di quale marca è stata? È sempre Honor. Ok. Honor ha fatto questo primo brevetto, o meno queste sono informazioni che ho trovato nell'armonica Museum di Trossingen. Ha fatto il primo prototipo, 1889 circa. Però era proprio un prototipo, aveva dei difetti, era comunque migliorabile. Non è come lo conosciamo adesso. Per esempio, lo slide, praticamente ti faccio la prova. Questa parte, l'imboccatura, non era come adesso che sta ferma e lo slide interno devia. La prima cromatica, adesso io non ce l'ho perché è molto difficile trovarla, si muoveva proprio un'imboccatura. Era un'imboccatura a muoversi. Quindi quando tu suonavi, si muoveva premendo il tasto oppure eri tu con le lacrime? Premendo sempre il tasto, aveva sempre queste molle esterne, però quando premevi si muoveva tutta l'imboccatura. Quindi il tasto era solidale con l'imboccatura? Esatto, era saldato, quindi tu quando suonavi sentivi questa roba che si muoveva dalla bocca, quindi non era proprio il massimo. E la cosa interessante che ho scoperto, sempre documentandone su questo articolo, è che le note non erano messe una sopra l'altra. Vedi? Adesso le note sono così, il tasto fa funzionare. E le ho messe così. Questa è una cosa molto strana che ho scoperto appunto facendo le mie ricerche. Però questo era il primo modello, quindi aveva comunque dei difetti. Infatti non è stato tanto venduto, tanto prodotto, almeno per una ventina d'anni. Fino a quando appunto si è cambiato la disposizione delle note e si è avuto proprio la disposizione sopra e sotto. 1910 incominciavano a fare questo tipo di modifiche, quindi sempre molla esterna, però imboccatura ferma e si muoveva la parte interna. Quindi 1910, 1920, l'innovazione che è stata fatta appunto è mettere l'armonica, il divisorio alto, sopra e sotto. E lo slide esterno però muoveva le sezioni interne, quindi l'innovazione che era come era adesso, ferma, con la differenza che c'era lo slide esterno, che è questo. Questa è una armonica cromatica, penso del 1920-30, insomma quel periodo lì, questo è proprio il prototipo della prima cromatica, diciamo come con l'innovazione appunto dello slide interno. Con la molla esterna quindi? Sì, con la molla esterna, questa è rimasta per un bel po' la molla esterna. Funziona meglio secondo te? Guarda, non funziona male, non funziona male, dipende anche dal tipo di acciaio che è duro, se è mollo è duro, questo qua è abbastanza duro, ma ho visto c'erano altri modelli che se tu scegli un acciaio più morbido non hanno nessun problema. Ma la polvere non agisce di più, no, e fa molto rumore però. Beh sì, fa un po' di rumore sì, dal tipo di, anche suonandola, adesso io questa qui ovviamente non la suono perché insomma e genicamente le armoniche da collezione prima di suonarle bisogna fargli fare veramente un check up completo. Però questa è la stessa disposizione per esempio, questo è proprio più recente. Quindi si respira con il sol, questa è come la diatonica praticamente, solamente sono due diatoniche. Non si possono fare i banding, però è la disposizione come la diatonica perché? Quindi non si possono fare i banding perché la camera è divisa. È certo, la camera è divisa, ci sono le valvole e non si riesce a fare. Quindi la prima cromatica nasce da, appunto, dall'impostazione della diatonica. Ma scusa un attimo, la disposizione delle note non è stata fatta in maniera tale per esempio da ottenere premendo le note che mancano nella prima ottava? Infatti si chiama, si chiama, no non si riesce, praticamente tu hai, non si riesce a fare, non si riesce a fare il la. Ecco non hai mai la solo, neanche premendo il tasto, quindi tu praticamente se hai re, sol, si aspirati, hai re diesis, sol diesis, si diesis, premendo il tasto. Hai, do bemolle, e no si hai do, quindi ti manca, ti manca, ti manca il la, quindi è una cromatica però solamente della seconda ottava in su. Nella prima ottava è qua, non è cromatica, gli manca una nota, non tanta roba, però insomma non si può dire che sia cromatica nella prima ottava. E nella terza è la disposizione sempre quella della diatonica, quindi con le note spostate un po'. Esatto, esatto. Quindi manca sempre il la anche su? No, su c'è. Manca il si, manca il si su? No, no, c'è tutto, c'è tutto. No, no, terza ottava, terza ottava. Su, su, su. Eh ma, beh sì, finisce. Appunto. Ci sono dei sui fori, quindi non riesci a fare tutta la tavola completa. Cioè non, questa quanti fuori è? Scusa? Dieci. Dieci, dieci. Ok, sì, quindi no, no, quello che voglio dire è che se nella diatonica tu hai, siccome è tutto spostato in avanti, hai, dunque, 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 come è spostato? Hai sempre do mi sol do, però se non sbaglio manca il si acuto. Sì, esatto. Ecco, hai il la. Appunto. Quindi hai il si bemolle premendo, però ti manca completamente il si, sempre il si. Esatto. Esatto, sì, sì, questo è un, comunque rimane comunque un problema. Perché all'inizio appunto loro avevano sempre una forma mentale da diatonica e quindi hanno detto proviamo a mettere due diatoniche insieme, creiamo una cromatica, però rimane sempre il difetto del fatto di non avere il cento per cento di note. Però loro volevano chiaramente mantenere il fatto di poter accompagnare, poter fare gli accordi come la diatonica, no? Eppure è strana questa concezione, perché avendo già nelle orchestre, nei gruppi di armoniche, tutta una serie di armonicisti diatonici che potevano accompagnare, poi avevano anche le armoniche orchestrali di cui parleremo in un'ulteriore puntata, a loro fondamentalmente mancava un solista. Quindi rendere cromatica la diatonica sicuramente è cosa interessante, però era comunque mantenere una limitazione per quanto riguardava il fare le melodie. O non sentivano l'esigenza di fare delle melodie nelle quali fossero necessarie le note che mancano alla diatonica, anche perché qua non le puoi ottenere neanche col bending. Oppure qual è la motivazione? Com'è che non hanno pensato subito a creare un'armonica solo cromatica, così da poter avere la libertà totale di fare tutte le melodie che si desiderano? Allora, dai cataloghi si evince che c'erano anche successivamente, dopo gli anni venti, anche le armoniche cromatiche solo tuning. Quindi la prima era in diverse tonalità, non solamente in Do, erano anche, ho visto gli appunti qui, La, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, Fa, ed erano appunto con il regular tuning. Questa raccordatura veniva chiamata regular tuning. Questa è la diatonica. Esatto, sì. Questa è la chiamata regular tuning. Questa era lo standard. Mentre per noi era lo standard di un altro. Esatto, esatto. E le armoniche cromatiche, come ne conosciamo adesso, venivano chiamate solo tuning, perché erano fatte chiaramente solo per fare gli assoli. E le sono tuning e venivano prodotte in Do e in Sol. E mi confermi che l'esigenza è nata qualche decennio dopo? Esatto, sì. Almeno trenta anni dopo, venti, trent'anni dopo. Sì, 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 che anni trenta, perché il movimento delle orchestre è incominciato negli anni venti, quindi da 1925 si sono cominciati a produrre e quindi è nata questa esigenza, conterrarmonizzare. Per capire come mai questa esigenza arrivi dopo, visto che comunque il tutto si muove nell'incontro fra diverse culture, che è la cultura nera americana, ma anche la cultura classica europea, nella quale il solista comunque ha la libertà di fare tutte le note che vuole con vari strumenti, dal violino al clarinetto al flauto. Come mai non è nata subito l'esigenza di avere un'armonica diversa, cromatica, è arrivata soltanto trent'anni dopo? Vabbè, il jazz sicuramente ha dato una spinta fondamentale, però... Guardando quegli spartiti, perché su tutti i cataloghi vecchi c'erano anche degli spartiti per armonica a gruppo, per gruppi di armonica, e ognuno aveva la sua funzione. Addirittura in certe c'era la regular tuning, c'era la school band, che c'erano armoniche diatoniche accordate in maniera solo tuning, e quindi si obbiava a questo problema della prima ottava con altre armoniche. Quindi, se questa non riusciva a fare là, c'era la parte sotto, gli spartiti di bande d'armonica sono pazzeschi, sono 8-10 armoniche insieme, e la nota che non faceva questa la faceva la school band, per esempio, e là lo faceva la school band, che era una diatonica accordata come proprio in solo tuning. E quindi c'era tutto un incastro di... dove non arrivava uno, arrivava l'altro, era pazzesco? Due domande. La prima, in queste band, anche se erano dieci righi, dieci diverse armoniche, immagino che vi fossero diversi armonicisti a suonare lo stesso rigo, quindi più armonicisti, si poteva arrivare anche a venti armoniche, insomma. Come si risolveva il problema dei battimenti? Perché se la lancia non è perfettamente accordata, non è mai perfettamente accordata come le altre, si sentono questi battimenti fastidiosi, un po' come quando si suonano assieme i due do vicino, nei due fori, quattro e cinque. Eh, questo... bisognerebbe avere qualche registrazione di qualche... Immagino che sarà stato fastidio. Sì, ma secondo me è anche vero che se non tutto in acustico, cosa si sentiva? Si sentiva poco. No, si sentiva tanto. Qualcuno si sente, qualcuno no. Questo sì, probabilmente sarà stato sicuramente un problema. Anche se nei cataloghi le Honor descriveva il proprio Honor Music, è accordata perfettamente. Lo diceva, lo scriveva proprio, l'Honor è accordata perfettamente. E questo, vabbè, insomma, sono piccoli particolari, però aggiungevano il fatto che era accordata perfettamente. La seconda domanda è, ti risulta che questo modello di diatonica cromatica sia nato per vezzo ingegneristico o perché c'è stato un musicista particolare che ha avuto queste forti esigenze di avere il suo strumento potenziato delle note alterate? Questo non lo so, è molto difficile. Io ho anche contattato il direttore del museo e mi ha dato alcune notizie, però neanche lui tutte. Io so solo che il modello viene registrato nel 1926, viene depositato nel 1926 da Debbie Newman, che è un collaboratore della Honor che viveva in California. Ma stai parlando di quella con solo tuning? Sì, no, quella con... E perciò, viene costruita nel 1800... No, viene depositato il brevetto. Viene depositato il brevetto vent'anni dopo, trent'anni dopo. Questo è. Perché io sapevo di un 1924 come nascita della cromatica in generale, forse quella con solo tuning, ma forse... Può essere, sì, sì, può essere. Però non capisco perché tutta questa distanza. Cioè, se io metto in produzione qualcosa e mi interessa, visto il gran numero di fabbriche di armoniche, mi interessa tutelare subito il prodotto. I dati che ho sono questi, la ricerca, sì, ho fatto quello che ho potuto, però questi sono i tempi che sono stati scritti. Anch'io ogni tanto trovo delle discrepanze, però i dati che si hanno sono questi. Mi sono posto anche la domanda, ma se è stato prodotto nel 1910, nel 1920, perché hanno depositato il brevetto nel 1926? No, perché la domanda a un certo punto sorge spontanea. Allora, è successo che hanno depositato il brevetto perché qualche altra marca nel frattempo ha colto il suggerimento e ha iniziato a produrre pure lei? Secondo me, secondo me sì. E come mai non hanno depositato il brevetto, subito, anche gli altri? Perché se andiamo a vedere anche cronologicamente, anche sempre negli anni 20 c'è stato questo grande armonicista che si chiamava Bora Minevic, che è di origine, penso, dell'Est, che si è fatto anche lui un modello suo, a nome suo, però è fatto dalla fabbrica di Hugo Rauner. Tu ci hai fatto vedere il modello diatonico di Bora Minevic, quello che aveva l'incari per le dita. Esatto, esatto. E lui si è fatto fare dalla fabbrica di Hugo Rauner, che però era nella Sassonia, quindi a Germania dell'Est, dalla concorrenza. E quindi probabilmente sarà stato spinto la Honor a depositare e depositare il brevetto per evitare che questo magari lo depositasse lui, insomma, perché... È stato l'unico caso di cronomatica oltre la Honor in quegli anni? Sì. La Seda o altri non hanno fatto nulla in tal senso? Io non lo so, non lo so perché nel Vintage si fa pratica veramente a trovare, però per esempio questo modello qui... Ah sì, è proprio il Bora Minevic, si vede proprio dal link. Bora Minevic ha sempre la molla esterna, la molla esterna ed è stata prodotta più o meno allo stesso periodo, anni venti, anni trenta. Ok. E quindi le armoniche di quel periodo lì hanno tutte la molla esterna, però questo è già un rumore con lo slide interno, no? E quindi fino a 1930-35 abbiamo appunto lo slide esterno. Ti risulta che gli ingegneri della Honor o anche fossero armonicisti? C'è qualche notizia di armonicisti ingegneri o viceversa, di ingegneri dedicati all'armonica? Cioè perché riuscire a comprendere bene di cosa ci sia bisogno? Ecco, in questo caso è un armonicista che ti porta uno schema e ti dice a me serve questo. Ma alla Honor, se non è stato un musicista ad avere quella particolare esigenza, magari è stato un ingegnere che suonando ha avuto l'idea, a me potrebbe piacere avere anche queste altre note. Non si sa nulla di questi ingegneri. Questo no, so solo che c'è questo David Newman che ha depositato il brevetto, però è un modello che era già stato prodotto ormai da decine d'anni, quindi probabilmente l'esigenza era stata appunto per tutelarsi da altre fabbriche. David Newman era ingegnere dell'Owner? Era un ingegnere che collaborava con l'Owner. Lavorava da esterno. Lavorava da esterno. È strano che non sia stata l'Owner a depositare il brevetto, ma l'abbia fatto fare al suo ingegnere. Eh, ma lui probabilmente lavorava per lui, però ha voluto il copyright, se ne è voluti tenere lui. E quindi sul brevetto, si può trovare anche su internet, comunque l'ho trovato su internet, c'è proprio la scritta sua. E lui ha depositato, c'è proprio lo schema di tutto, di com'è quella armonica lì, lo schema proprio fisico di com'è strutturata la molla esterna e le note messe così. Immagino che comunque il percorso fino al modello odierno di cromatica abbia previsto anche diversi altri freak, diversi altri mostri strani, delle combinazioni strane. Tu hai per caso altri tentativi di brevetti della cromatica? No, 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 altri tentativi. Si possono trovare altri mostri nel sito di Park Missing, di solito si trovano un sacco di mostri. Però anche altri modelli hanno comunque seguito dal punto di vista costruttivo, funzionale, sempre questo modello della molla interna e sono piuttosto simili. Insomma, si cambiano magari in accordature, ma non più di tanto, insomma, io li ho visti piuttosto simili come modelli. Ecco, sono rimasto stupito dal fatto appunto che io pensavo che la cromatica fosse stata sempre solo tuning e mi sono trovato davanti a una diatonica, a due diatoniche. Infatti sono sorpresissimo anch'io. Fondamentalmente siamo tutti diatonici, tutti i fili della stessa madre. Sì, perché quella è il diatonico anch'io, incredibile. Esatto, non sapevi che gli diatonico... Chiaramente poi col tempo questo tipo di accordatura non aveva più senso, perché una volta che tu fai solo tuning non aveva più senso continuare con questa regular tuning. Però la regular tuning, secondo me, almeno fino agli anni 40 è rimasta comunque come opzione. Probabilmente ci può essere una strana connessione che sarebbe da indagare, sarebbe interessante indagare, fra la diffusione di dischi e di strumenti per ascoltare la musica registrata e il passaggio dall'armonica diatonica cromatica all'armonica solo tuning cromatica. Perché fin tanto che, magari, suppongo, fin tanto che la musica è stata specialmente suonata localmente, ha avuto sempre molto a che fare col folk, col folklore. A un certo punto, con la diffusione della musica tramite strumenti come grammofoni, giradischi, radio, eccetera, eccetera, l'arrivo di nuovi stimoli musicali da parte di altri paesi, eccetera, eccetera, la diffusione della grande musica, ha in qualche modo fatto sentire l'esigenza di liberarsi un po' della dimensione così popolare, della dimensione così locale, per aprirsi a una musica dal respiro più globale. E forse è stato questo a determinare, con un po' di lentezza, con un po' di ritardo rispetto all'arrivo della musica, non mi aspetto che sia stato subito, però magari è stato questo a determinare lentamente, determinare lentamente l'esigenza di adeguare questo strumento alle possibilità espressive degli altri. Però immagino che fin tanto che la musica sia stata di quartiere, di regione, di nazione, la prevalenza della dimensione folcloristica la si ritrovasse anche nella struttura degli strumenti, di alcuni strumenti, l'armonica in particolar modo. Chissà, sarebbe da indagare. Posso immaginare che il cambiamento è stato appunto da cromatica che accompagna, quindi avendo due accordi, prima e quinta, ha il vero e proprio strumento solo, solista. Questa è proprio una questione di ruolo che ha questa... Certo, allora c'è da chiedersi chi era il vero solista, nel senso che questi gruppi di armoniche avevano qualcuno che cantava, perché siccome alla fin fine, tra diatonica, armonica orchestrale, armonica cromatica, tutti accompagnano fondamentalmente... Chi è che fa il motivo? No, ma c'erano i grandi accordi, primo, quinto, primo, quinto... E chi è che fa la linea melodica? C'erano le diverse armoniche orchestrali, no? C'erano le diverse armoniche orchestrali, ed erano cromatiche senza slide. Ho capito, ma chi è che fa il motivo? Che io sappia, sono tutti movimenti musicali, perché negli spartiti non c'è nessuno che canta, ci sono solamente strumenti e anche nelle foto che io vedo delle armoniche orchestrale, delle orchestre di armonica, non c'è uno che canta, tutti che suonano. Erano musiche da banda, erano comunque musiche solo suonate, non cantate. E nelle foto... Era la dimensione del ballo che era prevalente. Sì, era bisogno di ritmo e accordi, ritmo e accordi. Sì, erano canzoni popolari suonate. Anche le canzoni cantate venivano solamente suonate. Questa era la dimensione della storia. Quindi secondo me è stato proprio un cambiamento di ruolo. Il fatto di diventare solamente solo tuning è una questione di maturazione, perché assume proprio un ruolo da solista e basta. Cioè non c'è più l'accompagnamento e quindi ci sarà stato qualcuno che accompagna e c'è il solista. C'è la divisione proprio dei ruoli, no? C'è quello con l'accordi che accompagna e c'è il solista. Però prima questa visione di solista, ancora così come strumento, c'è stato proprio... Non sapevano se scegliere, se essere solamente solisti o anche accompagnatori, no? Poi chiaramente la storia va avanti e lo strumento è diventato solamente solista. La cromatica è solo solo tuning. Per quanto riguarda la reperibilità di strumenti cromatici in tutte le tonalità, è vero che nel catalogo c'erano? Ma erano facilmente reperibili tanto quanto le diatoniche, perché al giorno d'oggi invece abbiamo... Ok, le diatoniche le si trovano necessariamente in tutte le tonalità, le cromatiche ne ho ordinate ora un paio in altre tonalità che tra l'altro non riesco a suonare. Ho scoperto che non riesco proprio perché non mi suona quello che... Cioè se io suono leggendo Do e mi suona là, mi disturba. Non riesco proprio a riconoscere Do. Non ci riesco, non ci riesco. Ma perché non hai la formazione? Questo all'atere, no? Però mi chiedo, all'epoca erano così tanto reperibili e quindi da supporre che venivano veramente suonati brani in tutte le tonalità, anche con la cromatica oppure... Non penso. Io quando vedo tutte le brochure, i cataloghi, la pubblicità, io vedo sempre spartiti sempre in Do. Quindi non penso. Ci sono gli esercizi, sì, però non vedo questo grande utilizzo della... Però poi quando c'è da fare l'esempio della canzoncina, è sempre in Do. Quindi magari a livello popolare il Do e il Sol andavano bene. Gli altri tonalità, forse, chi lo sa. I documenti, purtroppo non ci sono documenti che lo possono confermare. O ci saranno, ma sono veramente difficili da avere. Va bene, procediamo. Adesso procediamo. Poi nel 1928 abbiamo la cromonica 270, quella che conosciamo adesso come... Quindi l'ampiamento a 12 fori. A 12 fori. E qui l'abbiamo... Nel momento quindi abbiamo sempre avuto solo 10 fori. Esatto. Esatto. Qualche anno dopo... La diatonica classica. Esatto. Qualche anno dopo viene costruita la cromonica 270. L'hai detto nel 1900? 28, 28, 29 insomma questo è. Quindi qualche anno dopo abbiamo la classica cromonica 270. Questa sì invece è accordata in solo tuning. Questa sì è accordata solamente in solo tuning. È improdotta solamente in chiave di Do e in chiave di Sol. Però c'è una variante, la Tenor, che è un'ottava ancora più bassa. È nata subito la variante Tenor? La si è trovata... Insieme. Con la nascita della 270 è nata la variante Tenor? Esatto. Interessante. Quindi invece di avere un C3, un C4 andava direttamente C3. Non si riescono a trovare documenti nei quali in qualche modo si spiega il perché di certe scelte ingegneriche. Qual è stata l'esigenza che ha fatto fare una cosa del genere? Non è quello che hai detto tu, che hai avuto tu, di avere tutte le note, no? No, no, capito. Ma la Tenor, la Tenor, perché? Probabilmente per fare delle parti anche di basso, no? Quello che è stata poi la 280, la 64, e se tu metti insieme una Tenor e una normale, diventa una 64. Ma la 64 ancora non era stata inventata. Certo. E quindi hanno fatto... E l'occupazione di un'ottava nella quale le basse non arrivano comunque. Sì, ci arrivano, ma... Intermedia, intermedia. E quindi mancava questo tipo di registro. E prima di fare la 280, la 64, hanno fatto la cromonica 270 solo e Tenor per coprire tutto il range. Sarebbe stata comunque occupata dal 64, diciamo, vediamo, nel 1935. Quindi qualche anno dopo. Ci sono arrivati, quasi dieci anni dopo, insomma, a questa esigenza, mettere insieme tutte e due le cose. Un'altra particolare della prima cromatica sono le valvole che erano in pelle... Umana. Adesso... Umana. Adesso ti faccio vedere... Ho smontato questa qui, vecchissima, e si vedono le valvole in pelle. Sì, sembra veramente pelle umana, eh? Eh sì, pelle di pollo, di Apollo. E questa qua. Sì. Queste sono le valvole originali. Introdotte in che anno? Eh, queste sono proprio il primo modello. Ah, primo modello. Perché si era notato che cosa? Con il primo modello di armonica diatonica cromatica cromatica, quindi stiamo parlando del 1890, più o meno. Sì, 1900, dai. 1900, si è notato che cosa? Questa qui è quella, questo modello qua, quella che è stata prodotta dal 1920, 1910, 1920. Quindi è nata, possiamo dire che sia nata direttamente con le pelle, con le valvole. Ecco, vedi? Adesso, prendendola, ne ho già persa una. Come sono dedicate le cose vintage, devo ricordarmi di rimetterle. Allora sto qua, adesso la rimetto qua. Quindi, valvole in pelle. Puoi vedere il tuo tavolino, anche stavolta, come è pieno di armoniche? Oh, madonna. È messa solo quella di questa puntata, perché per l'orchestrare dovremmo usare un tavolino molto più grande. Ti devi cambiare casa. Perché ovviamente sono molto più grandi. Valvole in pelle che rimangono comunque fino agli anni 50. Gli anni 50 vengono cambiate, sostituite dalle valvole in plastica. Quindi, inizialmente, diciamo, molla esterna e valvole in pelle. Questa è la caratteristica dell'armoniche fino agli anni 40, 50. 50, perché poi lo slide interno viene introdotto dal 1930. Quindi lo slide esterno. La molla esterna vuoi dire? La molla, scusa. La molla esterna dura dieci anni. Poi nel 1930 viene introdotta la molla interna. Mentre le valvole rimangono per altri vent'anni. Quindi quando uno, questo, il discorso dello slide interno, questo me l'ha detto quello del museo, come mi ha detto quello del museo, che hanno cambiato le valvole circa agli anni 50. Però circa, quindi stiamo parlando sempre, insomma, più o meno. Non vi sono documenti ufficiali di nessun tipo. No, no. Anzi mi ha detto che più o meno, però non c'è nessuno in vita per confermarlo. Grazie.